Ben ritrovati, un saluto a tutti gli amici del nostro canale, siete sempre più numerosi, siamo 4.000 in soltanto 13 giorni, davvero numeri top Vi ricordo come sempre di lasciare un like e di iscrivervi se non avete ancora fatto su AL Qualsiasi tifoso di qualsiasi squadra qui è al posto giusto, un canale per gli amanti di calcio, si parla di tutto Inter, Juve, Milan, calciomercato, estero, nazionali, eccetera, eccetera, eccetera In questa cosa andiamo a parlare di Milan, ma non solo perché andremo anche a parlare di un'altra squadra Capirete perché, un punto mercato, ieri il Milan ha vinto in Coppa Italia molto bene, un 4-0, un poker alla Lazio senza storie Dunque Milan e Inter si affronteranno di nuovo nel doppio derby che varrà un pass per la finalissima di questa Coppa Italia Tra le notizie di Milan ovviamente segnaliamo che potrebbe essere domani il giorno del rinnovo ufficiale di Teo Hernandez che ieri ha fatto una buona partita Avete visto però in copertina c'era Sven Botman e anche Frank Si Partiamo da Sven Botman, difensore del Lille che sappiamo, sapete, è il principale obiettivo del Milan per la prossima stagione Ieri il suo agente era a San Siro, uno dei suoi agenti, uno dei rappresentanti della sua agenzia era a San Siro Ovviamente invitato dal Milan e oggi ci sarà un incontro con la dirigenza per capire se si può fare il passo definitivo e decisivo verso la chiusura di questa operazione per capire se si trova l'accordo con l'entourage che ha avuto diverse offerte su tutte Quella del Newcastle, sicuramente la più importante dal punto di vista economico e per il giocatore e per il Lille che però non voleva cederlo e dunque conterà su di lui per i prossimi impegni di Ligan e anche di Champions League Vediamo l'evolversità della giornata in questo senso Presenza significativa Il Milan sappiamo che non partecipa ad Aste Vi dicevo anche nei giorni scorsi o il Milan lo chiude adesso oppure se si arriva quest'estate le Aste Il Milan dalle Aste si chiama fuori Il Milan appunto come tempistica rispetta quello che avevamo preventivato provare a prendere subito il giocatore e anticiparlo come è successo un anno fa con Mignan e tra l'altro anche lui proveniente da Lille Capitolo che si che si che dopo il derby non aveva fatto nessun post social oggi l'ha fatto dopo la vittoria di ieri ha segnato anche un gol è andato a esultare sotto la curva come faceva qualche tempo fa con il gesto del presidente dalle istruzioni, dal manuale di istruzioni segnaliamo che non bisogna mai lasciarsi confondere dalle esultanze, dai segnali nel senso che oggi il Milan è che si sono ancora molto lentani qualcuno l'ha visto più sorridente rispetto al solito è vero, è vero ma rimaniamo appunto sul fatto che il giocatore andrà via del Milan segnaliamo due cose la prima, ieri e poi non abbiamo potuto fare il video per questioni anche di tempo che il Barcellona si è chiamato fuori perché il procuratore a Tangana chiede troppo si chiama fuori il Barcellona e sappiamo anche che il Barcellona offriva 5 milioni di euro e questo fa riflettere sulla valutazione che in Europa c'è del giocatore perché se un giocatore a parametro 0 che chiede 8 un Barcellona ti dà 5 significa che ti stai ipervalutando addirittura l'offerta del Milan 5 milioni e mezzo primo anno per arrivare poi a 6 e mezzo dal terzo è superiore a quanto offriva il Barça questo deve far riflettere un po' tutti soprattutto appunto il giocatore cosa cambia? resta qui? cambia qualcosa? al momento no, ripeto lui si offrirà per tante parrocchie si sta già offrendo si è già offerto prova a scatenare un'asta europea attorno a sé segnaliamo che tra i vari rumors che sono circolati il PSG sembra un po' più freddo il Tottenham è stato rifiutato a gennaio da che sì sullo sfondo ma anche un po' emergente dallo sfondo c'è la Juventus che sta parlando con il procuratore sta capendo le richieste la fattibilità deve capire anche il mercato in uscita deve capire se ci saranno altre risorse per altri ruoli la Juventus sta lavorando anche con l'agente di Milinkovic-Savic chiaramente uno escluderebbe l'altro siamo di fronte anche a costi diversi anche se l'ingaggio di Milinkovic è molto più basso rispetto a quello che chiede che sì è vero che è arrivato la Juve Zaccaria che è uno molto fisico se vogliamo sulla falsa riga di che sì però sappiamo anche che Allegri stravede per che sì stanno parlando le parti ve lo riportiamo questo con estrema certezza e vediamo se alla fine la Juve fa un'offerta importante oppure no oppure se va altrove o chissà magari alla fine si accorge che l'offerta migliore era quella del Milan non abbiamo gli elementi sicuramente a livello europeo se il Barca offre 5 significa che anche la Champions che lui ha fatto sotto tono molto negativa evidentemente ha delle conseguenze sulla valutazione che viene fatta fuori dall'Italia l'anno scorso stagione mostruosa di che sì quest'anno stagione decisamente più a bassi livelli rispetto allo standard stratosferico dell'anno scorso vediamo che cosa succede giornata significativa dunque soprattutto su Bottman vi daremo gli aggiornamenti e continuiamo a monitorare la vicenda che sì che si tinge ogni giorno di gialli di sorprese di colpi di scena abbastanza clamorosi che cosa ne pensate? scrivetelo qui sotto e di uno e dell'altro lasciate un bel like iscrivetevi dove c'è scritto L vi aspetto numerosissimi un abbraccio e ciao iscrivetevi grazie a tutti